La documentazione, chi la vuole può averla, noi l'abbiamo ricevuto, noi siamo un pubblico interessato, praticamente indicato in questa fase partecipativa del PUNS e come detto questo è quello che hanno presentato loro, noi abbiamo fatto solo vedere quello che ci hanno fatto vedere loro e adesso invece vorrei far vedere le criticità che sono state presentate dalla provincia autonoma di Bolzano e del Consiglio Comunale, questo che sta succedendo è il frutto delle attività di protesta dei cittadini essenzialmente, che siamo riusciti facendo pressione e più siamo meglio è per ottenere qualcosa. Ci sono state due audizioni in Consiglio Comunale perché il sindaco, il primo conto che avevamo era del novembre dell'anno scorso, noi abbiamo fatto pressione per che Bolzano avesse un'aria più pulita. Subito dopo il signor Massimo Guariento dell'app di Bolzano è stato invitato al Comune per fare una presentazione e questa era la seconda che abbiamo ricevuto per caso. Qui i contenuti che lui ha presentato in Comune erano questi, faccio un po' veloce, contributi delle varie fonti missive, analisi delle emissioni da traffico e stima degli effetti della limitazione e della circolazione. Questo è lo stato di fatto, questo ha a che fare col PUMS, però non è il PUMS, non è il piano urbano mobilità sostenibile, ma sono dati misurati presentati in Consiglio Comunale. Questo mi sembra l'avevamo già visto l'altra volta per chi c'era, le misurazioni che sono state fatte in via Roma e le stazioni di misura che fanno vedere i livelli di ossido di azoto come media annuale nel 2016. Prima c'è stata una domanda, su quei tabelloni che fanno vedere l'eduzione centraline si vede il valore momentaneo e se viene sforato il valore limite dei 200 microgrammi, media oraria. Oltre ai 200 microgrammi, che sono delle situazioni veramente estreme, il traffico deve essere bloccato immediatamente. Ma c'è anche un altro limite, c'è il limite del valore della concentrazione annua, che è indicato che è questa qui, concentrazione annuale di ossido di azoto. Perché? Perché il nostro organismo non reagisce solo sui momenti di punta dell'inquinamento, ma è un inquinamento costante che il nostro organismo deve gestire in qualche modo. E allora il legislatore ha fissato in Europa 40 microgrammi di ossido di azoto per metro cubo media annuale. E' quello che i comuni e le province dovrebbero rispettare. Come vedete abbiamo dei sforamenti importanti nelle varie zone. Ecco, questo è il valore limite qui indicato correttamente, 40 microgrammi e l'andamento nel 2016 dei vari valori che sono stati misurati. Questi sono valori misurati, dati, validati. Ecco, questo è proprio via Roma, stazione via Roma che è quella però dall'altra parte del fiume sotto l'autostrada. Ok, qui le situazioni di superamento si vedono qui, questo è sempre via Roma, c'è quella chiocciola che va giù, qui c'è la piazza e si vede specialmente sul lato delle case, si vede queste concentrazioni veramente importanti di ossido di azoto, ma comunque anche lungo tutta la strada dove viviamo tutti noi, dove usciamo, passiamo, bambini, anziani, dove vive tanta gente. E poi dopo farò vedere quante persone sono coinvolte, questo è sempre il 2016, questo è l'effetto Canyon che abbiamo già visto l'altra volta, dove c'è la casa, abbiamo grossi problemi perché c'è una concentrazione elevata, questa è la sezione che hanno simulato, questa è una simulazione e qui hanno fatto questa sezione e qui si vede poi i valori che sono molto importanti. Questo per la stima, per il potenziale superamento degli ossidi di azoto, hanno fatto questo reticolo, sono le strade principali praticamente della città, sicuramente via Roma, via Druso, via Claudio Augusta eccetera e cercano con dei modelli matematici di fare delle previsioni sulla concentrazione degli ossidi di azoto. Queste sono le strade, il reticolo di strade con più di 800, 8 mila passaggi al giorno. Queste sono le zone potenziale superamento degli ossidi di azoto, sono 46 km e sono coinvolti 9 mila abitanti, cioè 9 mila abitanti di Bolzano, questo è solo per Bolzano, pagano il prezzo di mobilità non regolamentata, del non rispetto delle leggi, quello che diciamo sempre agli incontri anche a signor Karamaschi che insiste molto sulla legalità e io dico signor Karamaschi, lei lo sa, il limite viene superato, noi chiediamo, non chiediamo nient'altro che la legalità come lui sempre vuole riprenderci, chiediamo che i valori vengono rispettati. In queste zone in rosso io abito qui, voi siete qui, io probabilmente in tutta questa zona qui qui la responsabilità principale è l'autostrada, ma qui, questa zona qui, qui, Ries, non c'entra niente l'autostrada, o poco o niente, perché è troppo distante, lì è traffico cittadino, Bolzano ha il problema delle strade in città e anche dell'autostrada, tutte e due e non viene affrontato assolutamente niente. Beh, adesso pian piano, quanto pare, insomma, si sta succedendo qualcosa, sono appunto 9.000 cittadini, cittadini che sono quelli che pagheranno il prezzo dei 66 morti in alto adice ogni anno per gli ossidi di azoto. Ok, adesso i contributi, cioè anche per capire, ma da dove viene questo ossidi di azoto? L'ossidi di azoto viene essenzialmente dalla combustione e carburazione di sostanze fossili. Ecco, vediamo, 68% trasporto su strada, poi c'è l'energia del riscaldamento, riscaldamenti 11%, processi produttivi, trattamento, spantamenti di frutti e poco e altre sorgenti mobili. Allora, i valori che sono adesso misurati, per esempio, i riscaldamenti a Bolzano non ci sono ancora, è tutto quasi esclusivamente, tutto traffico e c'è l'asforamento sistematico dei valori. Adesso non so se forse è meglio ridurre questo o rinunciare il riscaldamento. Scusa, prima dicevi che sono dati del 2016 questi? 2013. Ah, 2013. prima era nel 2016, questo era nel 2016, questa è la presenzione di quadri e sono dati validati e non è cambiato di molto. Questo invece è del 2017, media annuale misurata nel 31 microgrammi. no? Questa è solo la BZ6, adesso non so esattamente dov'è. E qui ci sono i contributi per il traffico cittadino, riscaldamento e così. Probabilmente questa è quella in via Ambalaggi, penso, perché il contributo del traffico è il volo. Ecco, questa, non so adesso di dove è, bisogna vedere la cartina, qui si vede che il traffico incide ulteriormente, qui ci sono le varie stazioni di misura del 2017, qui avevano 47 microgrammi, qui 43 microgrammi, ecco, poi qui c'è l'effetto canyon, no? Perché come si forma? Le case, la mancanza di ricircolo dell'aria e la concentrazione dei gas di scarico, dei fumi di scarico, delle combustioni, delle carburazioni, della mobilità, dei dati alla mobilità. Ecco, questo è quello che c'era anche sull'invito, no? Per capire da dove, quali mezzi emettono queste sostanze. Questo è veramente, non l'abbiamo fatto noi, eh? Questo l'ha fatto, questa è la fonte, è stato presentato dal guariento, dall'APA. Vediamo che per i diesel, questo è 1,0, 1,2,3,4,5 e 6. Vediamo che l'oero 5 inquina più dell'oero 0. Che cosa vietano o vorrebbero vietare a Bolzano? L'oero 0, l'oero 1 e l'oero 2 e forse l'oero 3, ma il più importante è l'oero 5. Anche le quantità di macchine che girano. Ci sono pochi a oero 0 diesel, pochi a oero 1 diesel, no? Ce ne sono tanti a oero 5 e 6 che sono quelli responsabili per l'inquinamento e vietano però quelli che non ci sono o che non hanno inquinamento. Questo è da dire che quegli euro 6 lì non sappiamo come è andato fuori questa, perché gli euro 6 dopo lo scandalo di Instagram ne ha capito che sono tutti truccati, per cui non si sa bene se, perché quegli euro 6 lì non ho quanto, un euro 0. Per cui bisogna per capire se questa KB fa 3.3, l'ha calcolato quello che c'è scritto sul libretto delle macchine. Questi sono misurati sui strano. Comunque i contributi principali vengono dall'oero 4 e dall'oero 5 che ha dei valori veramente molto elevati. Ecco, qui e poi dopo questo è dei veicoli pesanti, dove nei veicoli pesanti c'è da dire che le classificazioni in oero, oero 0 fino a oero 6, non sono le stesse delle macchine, ma sono altre regolamentazioni regolamentazioni che effettivamente riducono, non a zero, ma riducono gli ossi di azote. Però anche lì c'è un problema. Su ebay si possono comprare delle apparecchiature per spegnere tutto il dispositivo di filtraggio dei gas di scarico, perché così i datotrasportatori hanno meno costi, perché non devono aggiungere led blu, che è la sostanza, l'acido unico che va a battere l'oro 6. E su internet si possono comprare questi apparecchi che sono 30 euro, si monta e questi girano senza led blu e risparmiano, cioè è una cosa criminale, però lo fanno. L'unico paese che controlla mi sembra sia la Polonia, Germania, Austria e Italia, la polizia, per quanto pare, non può controllare. Ci sono le emissioni a paragone, no? Vittorali? Sì, queste qui sono per la città. Sì, poi dipende se è in salita, se è in discesa, eccetera. C'è solo per l'indicazione che effettivamente l'oro 6 sono riusciti tecnologicamente ad abbattere l'emissione, ad abbattere l'oro 6 senza du praticamente ad emissioni girali all'ero 1. Sì, oero 1. Scusa. Cioè sì, con quell'emulatore lì siamo qui, da cui si spiega anche perché sull'autostrada del Brenner in Italia i valori non sono talati di molto, pur essendoci sempre più oero 6 del traffico pesante. Questo poi è il chilometri percorsi e questo è importante perché vediamo che il pesato, cioè questo qui con questo reticolo è quello pesato e è quello l'indicatore dell'apporto dell'inquinamento. Cioè quante macchine ci sono, che categoria e quanti chilometri vengono percorsi. E qui è stato fatto un bel lavoro e fa vedere che appunto l'oro 5 è determinante. Sicuramente non l'oro 0, anche se ci sono degli oro 0, però girano poco. Perché ce n'è troppi? Ma è anche di più. No, perché la gente li ha compagni. Sì, perché la gente li usa. Sì, ma pro macchina avrà meno emissioni dell'euro 5, immagino con l'euro 0. No, 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 attenzione. Loro non ho capito. Ecco, questo grafico corrisponde alle emissioni di ossidi di azoto per chilometro. Allora, NOx grammi per chilometro. Ok? E questo in giallo sono i diesel. Chiaramente più è alta la colonna, più sono i microgrammi di ossidi di azoto. E l'oro 5 è quello che ne emette di più. Questo è dedicato su che macchina, su che modelli? Questo qui... Un dato generale? No, non è un dato generale, sono dati misurati sulla strada. E questa è la fonte. Io ne ho visto un altro... Io ne ho visto un altro... Sono scetti con questo. Sì, no, bisognerebbe leggersi il documento. No, ma era l'unico. Ma questo... Sì, questa era la base per la causa che hanno fatto negli Stati Uniti contro l'industria e l'automobilista. E' maneggiato perché le missioni lì possono essere ancora di base. Quelle richieste, come te lì, è maneggiato perché c'è anche il cuore. Allora, no, no, no. La ricordata che la sede è sopposa. Le posso dire, la Deutsche Unbevliot in Germania ha portato in tribunale gran parte dei Lender. Ha fatto delle misurazioni su strada, sia in estate sia in inverno, di molte auto, euro 5, euro 6. E i dati corrispondono grossomodo a questi dati qua. per cui si è scoperto praticamente che le macchine sono pulite sul banco di prova quando viene fatta l'ombologazione, appena si va fuori da questi parametri, l'elettronica stacca e le emissioni sono molto più alte. Questo è il dato che si fa. Il problema grosso è che il grande problema, quando è un po' nel tecnico, ma quando sono comprato in vigore le normative euro 5, i costruttori, oltre alle furbate legali fatte in importazione, sapevano benissimo che stavano buttando sul mercato auto che poi su strada non erano assolutamente conforti. Noi ci hanno obbligato a vendere l'euro 2 per prendere l'euro 5. Purtroppo l'euro 5 era stato denominato eco diesel, mi ricordo benissimo, tutti si sono comprati, che bello che, però naturalmente il fatto che non sono diminuite complessivamente l'emissione di diossido d'azoto e l'emissione di diossido d'azoto è dovuto a questo fatto qua. Per cui adesso ti dicono, dal 2020 non ti faccio più mai servizio e come risolveri. Adesso si è accennato il discorso dell'euro 6, il discorso di secondario, che è una persona normale, non è complicato perché dal 15 settembre è stata in vigore l'euro 6C, però gran parte delle cose automobilistiche hanno omologato le auto con la D6D TEMP, che entra in vigore dal prossimo settembre e poi dal 2021 ci sarà l'euro 6D. Qualcuno sarà già perso, immagino, adesso è un discorso, ma il dato di fatto è che l'euro 6D TEMP e la D hanno caratteristiche che oltre ad utilizzare un altro sistema di ciclo di omologazione, che è più ampio, arriva fino anche a 130 km all'ora, ci sono le prove su strada, anche se le prove su strada, questo dimostra che ci sono anche problematiche tecniche per rientrare in questi limiti, i TEMP hanno grossi problemi, tanto che comunque TEMP, cosa è mettere 2,1V, fino a 2,1V, questa cifra c'è circa 168 grammi, ecco, qua entrare in vigore la normativa è l'euro 6T e questa prevede uno sforamento solamente di, diciamo, di mezzo, 50% di più, e comunque la tendenza è di non far più le vetture TEMP, diciamo che non dovrebbe, diciamo che le tue TEMP e comunque di sicuramente, ah no, si può stare, la TEMP è sicuro che sono macchine che rispettano su strada questi livelli di, solo che DISA ci ha messo la croce sopra con tutto questo punto fuori, ecco, questa è la conseguenza, poi è partito tutto hype, l'euforia per l'elettrico, anche nel lus, ma quando si sa che parla di tutto. Ok, direi che andiamo avanti qua, questo è quello ponderato, stima degli effetti della riduzione, queste sono le stime che calcolate dall'app della provincia autonoma di Bolzano, delle limitazioni della circolazione, ecco, qui fa vedere quante sono gasolio, benzina e altro, le classi dei veicoli, che abbiamo già visto in parte prima, quante autovulture private, quante merci, autobus, eccetera, le classi, suddivisione in classe, e l'uso del veicolo, il privato trasporto per persone, è quello più importante, sono quello più importante. Scusa, relativo a che cosa? Tutta la provina c'è questo? No. Alla città di Bolzano? Sì, questa è la città di Bolzano. Scusa, c'è Bolzano. Questo è il suo, ho presentato in un città comunale. Ecco, città di Bolzano, non di quelli che vengono a Bolzano per lavoro. Non lo so qui cosa hanno preso dentro, non lo so. E in fase per i dati dei residenti di Bolzano, non quelli che arrivano per lavoro? Non lo so come l'avete fatto. Penso che il di quelli che circolano a Bolzano, perché se no non avrebbe molto senso. Queste sono le autovetture, le classi, eccetera, il trasporto merci. Io andrei sulle stime. Questo è l'andamento giornaliero, le classi di azoto. Ecco, queste sono le stime che hanno fatto, cioè le previsioni di limitazione dei transiti. 2018, Euro 0, Euro 1, autovettura come è adesso. 2019, dal primo di gennaio, dovevano essere compresi anche gli Euro 3 delle autovetture e commerciali leggere e poi successivamente, negli anni, estendere le limitazioni, sempre, solo nei giorni feriali, solo per i veicoli diesel e solo nelle fasce orarie, dalle 7 alle 10, alle 16, alle 19. Queste erano le basi per le stimolazioni che adesso vi farò vedere. Ecco, questo qui è quello che prevedono loro. Concentrazione iniziale di ossidio di azoto, medio annuale 45 microgrammi, che è più o meno quella di Bolzano adesso, no? Questo in rosso è il trend dell'ipotesi con limitazioni e il trend normale, che è sempre comunque sopra i 40 microgrammi, che secondo noi non è tollerabile, perché i 40 microgrammi vuol dire persone, concittadini e inconcittadini, che muoiono prematuramente e per definizione le morte premature sono quelli che sono evitabili con delle misure di contenimento. Questo è nessun altro intervento e questo è con la riduzione ulteriore dal 5 al 25%, partendo però da dei valori uguali. Cioè loro sanno benissimo che anche se fanno queste misure, si rimane oltre i valori limiti. Questo qui.